Sacro e profano, un'enorme piantagione di marijuana composta da circa 600 arbusti coltivati in grandi vasi di plastica, è stata scoperta proprio dietro la cattedrale di Palermo. La serra era stata realizzata in un immobile faciscente nei pressi di Vicolo Nuovo. La piantagione era distribuita per tutto il primo piano, costituito da cinque stanze e altre tre stanze al secondo piano, invece al terzo vi era un vero e proprio laboratorio di essiccazione della sostanza stupefacente. Il vivaio illegale era dotato di un sofisticato sistema di irrigazione e di un modernissimo impianto di illuminazione artificiale costituito da numerose lampade alogene da 600 watt cada uno. Inoltre vi erano trasformatori elettrici e impianti per il condizionamento dell'aria. La scoperta è stata preceduta da una telefonata anonima al 113 che segnalava la presenza della piantagione di marijuana. Gli agenti, dopo curati appostamenti,